E' giunto al termine il progetto AWARD che propone con l'ausilio di diversi partner la definizione di un modello ottimale per il processo di raccolta e trattamento dei rifiuti agricoli, di diffondere la conoscenza e la consapevolezza circa le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti plastici in agricoltura e di promuovere la nascita di nuove imprese nel campo della raccolta e il riciclo di questa tipologia di rifiuti. Abbiamo seguito il tavolo di coordinamento a Trani. Il progetto AWARD per fare in modo che anche in campagna ci sia una corretta gestione dei rifiuti. Che cosa ha portato questo progetto nel territorio della BAT? Beh, indubbiamente questo progetto ha avuto il merito di sensibilizzare la popolazione e soprattutto gli attori istituzionali, quindi comuni, provincia, regione, su un tema che ad oggi di fatto non è né normato né gestito, e cioè quello della raccolta dei rifiuti agricoli. All'interno di questa sperimentazione noi abbiamo voluto fare innanzitutto una ricerca di dettaglio che non era mai stata fatta prima a riguardo ciò che viene di fatto utilizzato e consumato in agricoltura in termini di plastica soprattutto, quindi parliamo di teli, parliamo di tubi per irrigazione, e cercare di capire poi se gli attori istituzionali, quindi la provincia o i comuni, fossero in grado di strutturare un percorso teso a sensibilizzare gli agricoltori in merito allo smaltimento di questo tipo di rifiuti e poi cercare di individuare una serie di regole per poter organizzare una raccolta in maniera strutturata e adeguata sul territorio e tre, analizzare questi dati per poter poi creare anche qui a queste latitudini una catena del valore intesa dal punto di vista del recupero di questi rifiuti. La tutela dell'ambiente passa anche dalla sensibilizzazione degli operatori nelle nostre campagne. Sì, è un fatto culturale, bisogna infondere questa cultura di rispetto dell'ambiente, soprattutto che serve anche qui a evitare non soltanto inquinamento, ma anche a razionalizzare i costi di gestione di un servizio che oramai è diventato per le nostre comunità insopportabile. Quante volte ci capita anche da sindaci del territorio di dover fare ordinanze per la bonifica, per esempio, delle campagne e per togliere addirittura qualche volta amianto o comunque, come in questo caso, plastiche, diciamo, che vengono abbandonate un po' dappertutto. Penso che la provincia abbia avuto questo ruolo importante di coordinare un processo che ha visto incontri, formazione, cultura, soprattutto esperti del settore che hanno potuto anche tradurre in termini anche di gestione di carattere abilistrativo e anche di gestione dei rifiuti, quelli che sono input sicuramente oggi moderni di carattere culturale e di rispetto dell'ambiente.